Vediamo adesso le formule di addizione e di sottrazione del seno e del coseno. Allora, il seno di α1 più α2 è uguale alla somma di due prodotti, il seno del primo per il coseno del secondo più il seno del secondo per il coseno del primo. Il seno conserva il segno, cioè il seno di una somma è la somma di due prodotti, il seno di una differenza sarà la differenza degli stessi prodotti, mentre il coseno inverte il segno, cioè il coseno di una somma è la differenza di due prodotti, è precisamente il coseno del primo per il coseno del secondo meno il seno del primo per il seno del secondo. E il coseno di una differenza sarà la somma degli stessi prodotti. Applichiamo adesso queste formule ad alcuni archi associati, e cioè vediamo a che cosa è uguale il coseno di tre mezzi π più α. Applicando la formula di prima sarà il seno di tre mezzi π per il coseno di α più il seno di α per il coseno di π. Ora, il seno di tre mezzi π è meno 1, il coseno di tre mezzi π è 0, quindi il secondo addendo sparisce e resta solo meno coseno di α. Noterete subito che se noi anziché calcolare il seno di tre mezzi π più α calcoliamo il seno di tre mezzi π meno α, siccome il segno cambia solo sul secondo addendo che è nullo, otterremo esattamente lo stesso risultato. Vediamo invece a che cosa è uguale il coseno di tre mezzi π più α. Applicando la formula e sostituendo sarà coseno di tre mezzi π per coseno α meno seno di tre mezzi π per sen α. Il primo addendo è nullo e quindi questo sarà uguale a più sen α. Noterete che se anziché fare il coseno di tre mezzi π meno α facciamo il coseno, scusate, se anziché fare il coseno di tre mezzi π più α calcoliamo il coseno di tre mezzi π meno α, siccome il segno si inverte sul secondo addendo, allora noi otterremo l'opposto del risultato precedente, cioè uguale a meno sen α. Ora, applicando la definizione di tangente, noi abbiamo che la tangente di tre mezzi π più α è il rapporto tra il tre mezzi π più α e il coseno di tre mezzi π più α e in base a quanto precedentemente trovato sarà uguale a meno coseno α su sen α, cioè meno la contangente di α. Mentre se noi facciamo la tangente della differenza, c'è la differenza tra tre mezzi π e α, noi otterremo che questo è uguale a più la cotangente di α. Andiamo a vedere cosa succede con i quadranti, quindi se α è nel primo quadrante, tre mezzi π più αe vuol dire fare tre quarti di giro più α, quindi l'angolo andrà a cadere nel quarto quadrante. Seno e coseno si scambiano e in più il seno diventa all'opposto del coseno. Mentre se noi facciamo α meno tre mezzi π, vuol dire fare tre quarti di giro in senso orario, aggiungergli α e quindi se α sta nel primo, α meno tre mezzi π va a finire nel secondo. Ora, se ne coseno si scambiano e in più il coseno di α meno tre mezzi π diventa all'opposto del seno di α. Invece cosa vuol dire fare α meno π mezzi? meno π mezzi è un quarto di giro in senso orario, gli aggiungo α, quindi se α sta nel primo, α meno π mezzi andrà a finire nel quarto, seno e coseno si scambiano e in più il seno diventa all'opposto del coseno. E questo è un grafico riassuntivo di tutti gli angoli associati con le relative coordinate dei punti.